Veronica Satti ha più volte ribadito, da quando è entrata al GFNIP, di voler parlare con suo padre Bobby solo, so che mi starà guardando e io lo aspetto qui, mi verrà a trovare. Ma dopo 15 anni di silenzi, battaglie in tribunale, il grande cantante ha deciso di rispondere una volta per tutte alla figlia che ha rifiutato. Intervistato dal settimanale Spy, quindi, Bobby solo ha dichiarato, io ho raggiunto la popolarità cantando una lacrima sul viso e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv. Le parole di Bobby solo sono piuttosto dure e sono le parole che Veronica Satti non avrebbe mai voluto sentire dire. Così, dopo che Barbara D'Urso gliele ha fatte sentire, la concorrente del GF è scoppiata a piangere. Io mi sono svegliata una mattina e mi sono ritrovata in un vortice mediatico che mai mi sarei aspettata. Io non l'ho sputtanato, ho solo raccontato una storia. A me non sembra ridicolo, il rincongiungersi lo faccio per noi e non mi arrenderò. Questo è il mio percorso e quindi anche il suo. Io l'ho cercato sempre. Papà io ti ho cercato e tu lo sai. Ho bisogno di capire perché continui a rifutarmi, ne ho bisogno come donna. Perché il padre lascia una bambina a 13 anni. Mi ha abbandonato di punto in bianco, uno shock. Io non chiedo nulla, ho rinunciato ai soldi, io non voglio niente. L'inaspettato sfogo di Bobby solo, però, non solo ha ferito Veronica, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire, infastidito, la sua, Bobby solo ha cantato per una vita dell'amore, è incredibile che non dia un abbraccio a sua figlia. Non stai facendo una bella figura, ma che cuore hai? Avessi io una figlia sarei un uomo felicissimo. Grazie a tutti.